Buongiorno a tutti, vi ricordo un po' qual è il programma, dunque oggi io vi farò un'introduzione fondamentalmente al progetto di ricerca nel contesto del quale si svolge il lavoro che facciamo anche con la RAI e poi interverrà, abbiamo un'invitata, Ximing Shen, che è dottoranda nel contesto di questo progetto di ricerca all'Università di Nizza e spiegherà il suo lavoro, il modo in cui i dati sui quali lavorate sono anche collezionati e documentati, quindi questo è quello che succederà oggi, poi domani, tra oggi e domani vi spiegherò qual è il lavoro che dovremo fare, vi darò delle piste di ricerca, poi sarà più chiaro o forse non sarà più chiaro quando insomma ve le mostrerò e domani ci sarà un webinar della RAI, cioè la RAI si connette a distanza e spiega un po' cosa c'è nel catalogo multimediale di RAI Tech e come si può accedere al catalogo e come si possono fare delle ricerche nel catalogo della RAI. Quello che loro chiamano catalogo della RAI sostanzialmente è un'interfaccia attraverso la quale si può accedere agli archivi audiovisivi che la RAI ha digitalizzato. Quindi questo succederà oggi e domani, in seguito abbiamo una settimana di pausa perché c'è il 2 giugno, il 3 giugno facciamo ponte e ci vediamo il 9 giugno, il 9 giugno c'è l'intervento di un collega inglese che ha invitato il professor Leone, ascolteremo l'intervento e il 10 giugno invece ricominciamo a lavorare sui dati perché andiamo a RAI Tech e quindi il 10 giugno, poi domani ci mettiamo precisamente d'accordo e anche il 9 quando ci vediamo ci mettiamo precisamente d'accordo, ma il 10 giugno avete questi due gruppi, c'è un primo gruppo che entrerà alle 9, a 9 e mezza, 9 e un quarto non mi ricordo più, è il secondo gruppo alle 11 e mezza e quindi inizieremo a lavorare a fare delle ricerche sul catalogo RAI sapendo che l'ora e mezza che abbiamo sostanzialmente non è sufficiente in realtà per fare questo lavoro di ricerca, quindi diciamo che entriamo, guardiamo un po' insieme tentando di mettere a frutto quello che ci hanno spiegato nel webinar i colleghi della RAI e poi sarebbe utile che tornate per poter collezionare i dati nel quadro del progetto e del soggetto che avrete scelto. La mediateca della RAI è accessibile sempre secondo gli orari indicati, potete andarvi senza prenotare eccetera, tra l'altro ci sono un sacco di libri legati alla storia dei media e alla semiotica dei media audiovisivi in particolare, c'è tutto il fondo dei libri di Peppino Ortoleva che è stato dato alla sede della RAI, ecco vedi che ne sapete, quindi vi consiglio di frequentare perché a quanto pare non hanno molta gente. Ok, allora adesso vi do insomma il quadro generale dello studio che facciamo che ovviamente è legato a quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè a quello che abbiamo fatto fino adesso, cosa abbiamo visto come l'evoluzione delle questioni patrimoniali è legata all'evoluzione della tecnica, tecnica e patrimonio sono strettamente legati, abbiamo visto quindi che la digitalizzazione modifica il concetto stesso di patrimonio, cioè ci invita a questionare la nozione stessa di patrimonio culturale e abbiamo visto che c'è un elemento fondamentale che viene introdotto in maniera eclatante dalla digitalizzazione che è la questione della mediatizzazione del patrimonio, cioè quello che succede è che il patrimonio viene mediatizzato e c'è questa ambivalenza del fatto che dunque i media contribuiscono a costituire ricordi collettivi e nello stesso tempo anche gli archivi che sono digitalizzati e che vengono messi in circolazione nell'ecosistema mediatico diventano ricordi visivi e collettivi, visivi o collettivi. E' in questo quadro insomma che si sviluppa anche il progetto di ricerca di cui parleremo oggi e questo progetto di ricerca fondamentalmente mira a dare dei dati, cioè a datificare, a quantificare realmente la questione dunque del ricordo visivo mediatizzato e quindi a trovare degli elementi empirici su cui si possa lavorare per, forse era meglio se parlavo qua, sì, su cui si possa lavorare per capire quindi come effettivamente i ricordi visivi circolano negli ambienti mediatici e andremo a vederlo in maniera più specifica. Oggi da qualche anno ci sono tutta una serie di ricercatori che lavorano quindi su questa questione che è quella della circolazione delle immagini quindi fondamentalmente che è iniziato a essere studiato appunto con Walter Benjamin che abbiamo visto e in particolare oggi c'è un ricercatore che si chiama Peter Zendi che è professore all'università di Nanterre e alla Brown University negli Stati Uniti che ha lavorato sulla circolazione delle immagini e che mette in avanti quella che lui chiama una forma di economia, economia che vuol dire è una contrazione tra icona che vuol dire immagini quindi economia e quindi si tratterebbe di uno studio che lavora sull'economia delle immagini ma economia non nel senso esclusivo della questione monetaria ma si tratta sostanzialmente di studiare l'amministrazione delle immagini cioè la circolazione delle immagini si tenta di capire come queste vengono gestite, come circolano e quali sono i fattori che permettono il loro movimento, i loro flussi. Quindi Zendi dice che abitiamo un mondo sempre più saturo delle immagini, questa citazione tra l'altro è presa dal catalogo di una mostra che Zendi ha curato al Jeu des Pommes a Parigi, una bellissima mostra di cui vi consiglio di visitare il sito internet perché il momento in cui ha aperto la mostra è arrivato il covid e quindi sostanzialmente nessuno l'ha visitata questa mostra, però su internet potete trovare una versione un po' digitalizzata della mostra e quindi Zendi dice che abitiamo un mondo sempre più saturo di immagini, il loro numero conosce una crescita talmente esponenziale, oggi più di 3 miliardi di immagini sono condivise ogni giorno nei social network, che lo spazio della visibilità sembra esserne letteralmente sommerso, come se non potesse più contenere le immagini che lo costituiscono, come se non ci fosse più spazi o più interstizi tra esse. Ci avvicineremmo dunque del limite che Walter Benjamin un secolo fa immaginava nella forma di uno spazio tenuto al 100% dall'immagine. Di fronte a una tale superproduzione d'immagine, si pone la questione della loro conservazione, della loro gestione, del loro trasporto e delle vie che seguono del loro peso, della loro fluidità o della viscosità dei loro valori, dei loro scambi, scusate, dei loro valori fluttuanti, insomma la questione della loro economia, l'economia intesa come amministrazione, dal punto di vista etimologico, dal greco economia significa l'amministrazione, quindi l'amministrazione delle immagini, il che significa quindi tentare di capire quali sono i flussi che le immagini seguono, quali sono le mediazioni che incontrano e quali sono gli elementi che permettono alle immagini di circolare, quindi capirete che questi elementi sono degli elementi evidentemente legati agli dispositivi, sono degli elementi quindi simbolici, sono degli elementi semiotici, contestuali, situazionali, ma sono altresì degli elementi legati a dei fattori economici. non so cos'è sto rumore, legati a dei fattori anche tecnici quindi, per esempio il fatto di essere più o meno connessi, di essere più o meno legati a certe disponibilità di documenti, che certi documenti siano più o meno disponibili, per esempio il fatto che c'è un certo periodo del flusso televisivo della RAE non sia stato ancora digitalizzato, significa che questo periodo non è ancora stato immesso nell'ecosistema mediatico digitale, quindi che queste immagini non possono essere recuperate e messe in circolo sul web per esempio, quindi queste immagini circolano molto meno, quindi questa è una questione triviale che significa che nel momento in cui certe immagini vengono digitalizzate da un'istituzione archivistica per esempio, gli si permette di accedere a un certo, a certe strade, a certe autostrade dell'informazione alle quali non accederebbero senza la digitalizzazione. E quindi Zendee dice che le immagini seguono delle strade, dei tracciati nello spazio del visibile, la visibilità è striata attraverso delle vie, dei viali, delle autostrade, il cui studio e la cui geometria sono state schizzate, si è iniziato a pensarle diciamo prima da Benjamin e prima di Benjamin da Abivarburg. Allora già lo spazio del visibile, il fatto che lo spazio del visibile sia striato, evidentemente qui Zendee fa riferimento alla questione dello spazio liscio e lo spazio striato di Deleuze, che forse avete sentito parlare, no? Sì? No? Vabbè, diciamo che la striatura dello spazio è una forma di geometrizzazione dello spazio che permette di gestirlo in qualche modo, secondo Deleuze lo spazio liscio era uno spazio nomade, uno spazio senza punti, senza linee, uno spazio non definito, non strutturato diciamo, non categorizzato, invece lo spazio striato è uno spazio che è categorizzato, che è strutturato, quindi uno spazio che può essere gestito, normalizzato da una griglia che permette quindi di accedervi. Quindi queste strade, per esempio il fatto che ci siano dei cavi sottomarini che connettono l'internet europeo e l'internet americano, che i cavi vadano in un certo senso piuttosto che in un altro, il fatto che ci siano quindi delle questioni realmente materiali che gestiscono la struttura degli scambi legati al web, questa struttura materiale stratifica e struttura, categorizza lo spazio dove si muovono le immagini e le immagini quindi sono sottomesse a questa stessa struttura, al modo in cui questo sistema di circolazione insomma le permette di essere gestite e quindi costituiscono insomma delle strade, dei viali che sono più o meno veloci e che quindi amministrano la circolazione delle immagini. La persona che probabilmente per prima aveva lavorato su quest'idea della circolazione è Abbi Warburg, forse avete sentito parlare di Abbi Warburg, sì, un po' sì, un po' no, Abbi Warburg era uno storico dell'arte tedesco e adesso lo riprendiamo brevemente ma fondamentalmente l'idea che viene ripresa oggi è che è stata recuperata fondamentalmente da George D. Duberman, George D. Duberman è un filosofo, un estetico dell'USSS a Parigi che ha scritto un libro intitolato La sopravvivenza delle immagini, adesso non sono sicuro della traduzione, ma insomma l'Image survivante dove riprende il lavoro di Warburg e in sostanza l'ha aggiornato il lavoro di Warburg per la storia dell'arte contemporanea, ma insomma noi vediamo come il lavoro di Warburg è interessante non solo per la storia dell'arte ma fondamentalmente per tutti i media studies e l'idea di Warburg era quella di costituire un atlante delle forme visive, adesso vedremo perché l'idea nel nostro progetto è di costituire qualcosa di simile, un atlante delle immagini legate a un contesto specifico e l'idea di Warburg era di vedere come le forme visive evolvono nel corso del tempo, sono ricontestualizzate in diversi situazioni, in diversi ambienti e come una stessa forma può avere dunque diversi usi, diversi significati in contesti diversi e dunque proponeva questi atlanti che sono interessanti anche da un punto di vista metodologico perché la presentazione visiva dell'atlante di Warburg si chiamava Atlas Mnemosyne, l'atlas dell'atlante della memoria, era una forma euristica che permetteva di lavorare sulle immagini dal punto di vista visivo, quindi non c'era solo una ricerca che veniva espressa in modo discorsivo ma c'era l'utilizzo reale di una questione effettivamente visiva e vedremo come questi atlanti, che magari vi anticipo, sostanzialmente erano delle lavagne su cui Warburg disponeva delle riproduzioni di opere artistiche dove ritrovava una stessa forma ripetuta in diversi contesti, in diversi periodi della storia dell'arte. Ecco, il riferimento di Di Huberman è l'image survivante, comunque esiste una traduzione italiana, Di Huberman ha lavorato, quasi tutti i lavori di Di Huberman sono tradotti in italiano e per esempio vedete ci sono certe forme che sono ricorrenti nella storia dell'arte e che vengono riprese in diversi contesti e che finiscono per avere dei significati totalmente diversi in questi diversi contesti e quindi il suo lavoro era proprio di quello di vedere visivamente come queste, attraverso una giusta posizione delle immagini, quindi un lavoro, una forma di montaggio, infatti si diceva che Abbi Warburg e Di Huberman chiama proprio questo metodo euristico montaggio, il fatto della giusta posizione mettere accanto una stessa forma visiva che si presenta in diversi contesti e che viene riutilizzata in modo diverso e quindi vedete come sostanzialmente quello che fa lui è di tracciare, fare la genealogia di certe forme visive e di vedere come queste si generano, come vengono riprese, come cambiano nei loro diversi contesti, di uso, di riutilizzo e quindi quello che fa è appunto una forma di economia nel senso di Zendì, cioè uno studio dell'amministrazione delle immagini e tenta di vedere come le immagini, in questo caso le forme visive, vengono riprese e quali sono gli elementi contestuali che permettono la loro circolazione e la loro riproduzione. Più recente c'è il lavoro di una collega dell'Università di Ginevra che si chiama Beatrice Joao Prunel, che si chiama Artlas e lei ha tentato di fare lo stesso lavoro di Warburg ma attraverso dei metodi digitali, quindi si tratta di una forma di, diciamo che Warburg se avesse avuto i metodi digitali all'epoca sicuramente avrebbe utilizzato dei metodi digitali e quantitativi, lui lo faceva in maniera evidentemente qualitativa da storico, cioè ritrovava lui stesso gli elementi artistici che gli interessavano, oggi abbiamo dei metodi che ci permettono di farlo su una grande massa di dati e quindi per esempio Beatrice Joao Prunel ritrovava, ritrova in questo progetto che si chiama Artlas, delle stesse forme visive, la ricorrenza di certe forme visive in diversi cataloghi di banche dati di opere d'arte e quindi attraverso le banche dati di queste opere d'arte ritrova per esempio la forma della Venere qui e ritrova come questa forma visiva sia ripresa in un'enorme quantità di contesti di creazioni estetiche e lo fa utilizzando evidentemente qui quello che Warburg faceva manualmente visivamente, oggi lo possiamo fare su una grande quantità di dati utilizzando degli algoritmi, delle intelligenze artificiali per esempio che ritrovano una stessa forma e riescono a detettare, è un orribile verbo, a ritrovare, a riconoscere la stessa forma visiva in diversi contesti. No, Warburg è degli anni 30. Di un'anima? Sì Una questione della, diciamo che la semiotica visiva è stata recentemente con Maria Giulia Dondero che è stata invitata qui, forse avete seguito i suoi corsi, no? Faceva sostanzialmente la stessa cosa che faccio io, Natalie Rollens fa accanto, quindi faceva un corso di semiotica visiva e lei ha ripreso Warburg nella semiotica visiva, lei è professora dell'università di Liegi e quindi è legata al gruppo Mu e quindi a tutti i semiotici visivi belgi, Klinkenberg, insomma quelli che hanno costituito la semiotica visiva come la conosciamo oggi e lei ha introdotto Warburg, diciamo, nel mondo della semiotica strutturalista e diciamo che forse lo scarto, adesso quindi non sono abbastanza esperto su questa questione per potervi dire a che punto, qual è esattamente la differenza tra un approccio warburgiano e un approccio di semiotica visiva strutturalista ma io penso che ci sia una distinzione proprio nella questione del suo strutturalismo perché fino a recentemente erano dei mondi abbastanza separati, cioè Warburg veniva citato appunto nella storia dell'arte, in estetica e molto meno, quasi per niente, in semiotica Warburg poi fondamentalmente lui quello che studia è la sopravvivenza dell'immagine, cioè lui si chiede com'è che ci sono certe immagini che sopravvivono o certe forme visive più che immagini, perché non è esattamente un'immagine ma una forma visiva e quindi prende quest'idea della potenza, della forza dell'immagine e non saprei dire se lui parla di linguaggio per esempio, perché fondamentalmente l'idea della semiotica è quella di parlare di linguaggio quindi di trovare una struttura, una grammatica io penso che Warburg era abbastanza distante dall'idea di grammatica, di struttura, del linguaggio studiava qualcosa, un altro piano infatti parlava di pathos formel la forma quatemica non saprei, ma bisognerebbe chiedere a Maria Giulia D'Ondero comunque Maria Giulia D'Ondero ha scritto su questo avvicinamento tra semiotica visiva e prospettiva warburgiana com'è scusate? sì il linguaggio dell'immagine sì sì esatto sì sì può essere sì comunque sì esattamente il punto di contatto è sulla semiotica plastica esattamente cioè sulla dimensione plastica dell'immagine nel senso che quello che lui ritrova è la dimensione plastica dell'immagine solo che poi tenta di spiegare la forma che si ripete qui è una dimensione plastica tra l'altro la cosa interessante è che appunto i metodi digitali i metodi di riconoscimento delle forme come gli algoritmi che vengono utilizzati per ritrovare una ricorrenza sono degli algoritmi che sono molto efficaci nello studio degli elementi plastici molto meno degli elementi figurativi perché l'elemento figurativo aggiunge un'interpretazione culturale che l'umano può fare molto facilmente mentre l'elemento plastico per noi è abbastanza difficile da riconoscere. l'elemento plastico ci vuole un certo momento in cui ci si mette a distanza si tenta di vedere i colori le forme non si riconosce immediatamente invece la macchina lo riconosce molto facilmente quindi c'è questa ambivalenza noi riconosciamo il figurativo bene la macchina no ha bisogno di essere aiutata però la macchina conosce molto bene il riconosce molto bene il plastico e giustamente questi metodi digitali che da Lev Manovic Beatrice Lujo Prunello anche noi utilizziamo per studiare la ricorrenza di certe forme lavorano sulla dimensione plastica fondamentalmente anche se vedremo col programmino che utilizzeremo che le cose non sono così distinte come sembrano. esatto esatto la nif si 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 è si Digital Turn, di svolta digitale o materialista negli studi delle teorie delle immagini. C'è un libro di Milad Dwey, che vi avevo già citato, Milad Dwey è quello che parlava di conversione digitale, che ha scritto Digital Cultures, e Milad Dwey parla di materialismo digitale, e l'idea appunto che sia difficile distinguere oggi, nel momento in cui si comincia a parlare appunto dei fenomeni circolatori di un contenuto, sia difficile potersi astrarre, poter fare a meno dello studio delle questioni di cui possiamo parlare da un punto di vista materialista, e dunque l'empiricità delle strutture che permettono la circolazione. Quindi non si tratta del materialismo marxista, non ha niente a che vedere, marxiano, ma è il materialismo nello senso dello studio appunto degli elementi materici della circolazione, quindi a questo proposito vi mostro questo piccolo estratto che usa spesso Peter Zendee per esporre la sua idea di economia, e che è preso quindi da un documentario di Ritipan, Ritipan è un regista di origine cambogiana, che è installato a Parigi, e dunque in questo documentario Ritipan va a guardare come lavorano degli operai che stanno installando delle fibre ottiche in Cambogia, e dunque in questo documentario Ritipan e dunque in questo documentario Ritipan e dunque in questo documentario Ritipan Ritipan Vi faccio la tradizione perché visto che in effetti i suoi titoli sono i francesi, allora dice una volta ci parlava di occhi e orecchie magiche, avete sentito, avete ascoltato i nostri antenati o ho letto la Ramayana? Gli occhi magici e le orecchie magiche sono questo, il cavo, gli occhi magici significa che tu sei qui, me vedi fino negli Stati Uniti, vedi il mondo intero, sono questi gli occhi magici, con questo cavo si trasmette la televisione, mostra al mondo intero le informazioni della CNN, nel mondo intero, si vedono le informazioni alla televisione e questi sono gli occhi magici e le orecchie magiche, significa che sei qui e ascolti qualcuno che parla negli Stati Uniti o in Canada, grazie a questa rete che chiamiamo telecomunicazioni. Una volta si parlava di occhi e di orecchie magiche, ecco oggi le abbiamo trovate. Prima per inviare delle informazioni non c'era che la posta, non avevano inventato questa rete, le lettere che si inviavano, si mettevano delle settimane, dei mesi, con questo cavo ci mette la velocità di un fungine, scrivi la tua lettera, la invii via internet, attraverso queste fibre, puoi anche mettere la tua foto, i tuoi genitori sono negli Stati Uniti, la invii e in meno di un minuto la ricevono, grazie a questo che si chiama internet. Non ho l'elettricità, solo una lampada a petrolio. Vedete veramente, quindi loro lavorano su un livello di tecnologizzazione che gli oltrepassa, appunto c'è una forma di alienazione qui, dove loro stessi gli operai che installano la fibra ottica non hanno nemmeno l'elettricità a casa, e questo mostra come appunto lo spazio, come dice Zendì, sia appunto uno spazio striato, spazio striato nel senso che questa apparente continuità e fluidità degli scambi, che dovrebbe permettere dunque la circolazione, è tutto fuorché liscia e fluida, è assolutamente strutturata da delle questioni quindi materiali, ma il materialismo implica quindi anche un'attenzione alla questione sociale, quindi lo scarto digitale è anche legato a una questione dell'accesso, dell'accessibilità di cui abbiamo parlato l'ultima volta, sono anche legate dunque a delle questioni sociali, della capacità insomma di accedere alla rete e quindi agli scambi digitali. Dunque tutto questo sistema in questo progetto di ricerca dunque a cui partecipa Ximing, che interverrà dopo, lo tentiamo insomma di mettere, di studiare in un ambito particolare, in questo progetto di ricerca che si chiama Crobora dunque, e dunque l'idea di Crobora è appunto di dare dei dati empirici sul fenomeno circolatorio delle immagini e studiando come fondamentalmente le immagini costituiscono dei ricordi visivi e quindi legando la questione della circolazione dell'immagine con la questione della circolazione di immagini che fondamentalmente rappresentano degli eventi del passato e in quanto rappresentanti di eventi simbolicamente degli eventi del passato vanno a costituire un ricordo collettivo e visivo e la loro circolazione, il fatto che circolano o non circolano il modo in cui circolano implica una certa strutturazione della memoria visiva. E quindi tentiamo di capire come emergono dei ricordi divisivi e di fare una forma di epidemiologia nel senso di studio della circolazione, no? Epidemiologia significa tentare di capire la circolazione producendo dunque dei dati empirici su cui testare effettivamente come la memoria cambia a seconda delle strade che percorre, delle mediazioni che subisce. Quindi per fare giusto, per darvi un po' di contesto, insomma a questo progetto partecipano dei colleghi di varie università, tra cui vi consiglio di leggere se vi interessa o se siete interessati ai lavori di Dario Compagno che fa una forma di semiotica quantitativa, cioè lavora sul, sostanzialmente fa digital humanities ma da un punto di vista semiotico e dunque studia la dimensione quantitativa attraverso dei metodi digitali e osserva appunto il legame tra la questione quantitativa e la dimensione strutturalista del linguaggio. E quindi ci sono dei colleghi anche qui in Italia e vedremo Alberto Messina e Silvia Procia che sono qui a Torino e che sono degli informatici che lavorano al centro di ricerche tecnologiche della RAI. Fondamentalmente Mediaset, RAI e INA ci danno i dati, cioè ci permettono di accedere insomma ai loro archivi audiovisivi, in questi grandi archivi audiovisivi abbiamo i dati e quindi potendo ad accedere al flusso televisivo e web, perché poi l'INA conserva anche gli archivi del web, possiamo accedere alla ridondanza di certe immagini, cioè possiamo vedere come certe immagini circolano e ricorrono e certe forme visive sono ricorrenti quindi negli ambienti mediatici. e all'università di Nizza quindi abbiamo altri colleghi e colleghe e per darvi giusto un piccolo elemento contestuale spesso probabilmente vi chiedete come funzionano dei progetti di ricerca, quindi quando un progetto di ricerca viene finanziato, nel nostro caso il progetto è finanziato su 300 mila euro e spesso ci si dice, beh, per un progetto di ricerca in scienze umane o in scienze sociali i soldi non servono a molto perché non ci sono degli elementi materiali e degli strumenti che vengono impiegati, in realtà è uguale in qualsiasi progetto di ricerca, sia in scienze naturali, sia in scienze umane o sociali, fondamentalmente il grosso del budget va per reclutare dell'agente, in questo caso per esempio il 70% del budget sono risorse umane, quindi a meno che non dovete costruire un superconduttore, un acceleratore di particelle che evidentemente ce ne sono 4-5 nel mondo, il grosso del budget sono risorse umane, così che funzionano i progetti di ricerca e quindi avere delle persone che lavorano su certi campi specifici. Dunque, allora, tento di darvi dunque rapidamente quali sono le tappe insomma di questo progetto, partendo da quindi gli obiettivi, le ipotesi che vengono messi in avanti, lo stato dell'arte, teoricamente quindi abbiamo degli obiettivi dell'ipote, questo modo di ragionare tra l'altro è il modo di ragionare che si tenta di mettere in avanti anche nelle tesi di dottorato, che si tentano di strutturare sempre il più possibile oggi, è l'idea avere degli obiettivi, delle ipotesi di ricerca, vedere come questi obiettivi, queste ipotesi di ricerca permettono di far evolvere lo stato delle cose, lo stato dell'arte sulla questione, applicare ciò a un terreno di ricerca e quindi a partire da questo terreno di ricerca costituire un corpus e attraverso dei metodi specifici tentare di produrre dei risultati. Dunque, il punto di partenza è questa presenza di immagini, di archivi audiovisivi in particolare, quindi parliamo di immagini ma in realtà si parla nel nostro contesto di immagini in movimento più specificamente, e quindi una grande presenza di immagini del passato nei media, nei contesti mediatici, questo è un punto di partenza, è un elemento di constatazione fattuale del fatto che ci siano una grande quantità di archivi audiovisivi e quindi di immagini che circolano nel contesto mediatico, anche grazie alla digitalizzazione, e quindi facciamo fronte a questo fenomeno, a questo processo di viralità, di circolazione di queste immagini, ci sono delle immagini che circolano, che vengono riutilizzate, che vengono riproposte in contesti diversi, una moltiplicità di volte, come avevamo visto, le immagini per esempio dell'11 settembre, le immagini dell'11 settembre vengono inizialmente trasmesse in diretta, poi vengono registrate, il loro replay che viene riproposto immediatamente qualche secondo dopo l'evento, ne fa delle forme di documenti visivi, questi documenti visivi vengono poi documentarizzati e cominciano a circolare nei media, a essere riutilizzati, allora per esempio le immagini dell'11 settembre evidentemente sono state riutilizzate subito, ma la loro documentarizzazione, la scorsa volta abbiamo parlato della nozione di documento, la loro documentarizzazione è necessaria per permettere il loro riutilizzo, nel senso che se queste immagini non fossero documentate, non vi si scrivesse 11 settembre arrivo del aereo, del secondo aereo sulla torre sud, queste immagini non sarebbero facili da ritrovare, e evidentemente quelle immagini là che abbiamo visto sono state documentarizzate in questo senso, cosa che normalmente non si fa, non si arriva a questo livello di dettaglio nella documentarizzazione, nella descrizione di un'immagine, in quel caso si è arrivati a quel livello di dettaglio proprio perché era utile farle circolare e era interessante per i media riutilizzarle. Quindi il nostro interesse è fare questa forma di epidemiologia delle immagini, capire dunque come circolano, perché certe immagini circolano più di altre, in che contesti queste immagini sono utilizzate e perché, quali sono le ragioni per cui i media le utilizzano, e capire anche quindi quali sono gli elementi che le ricontestualizzano e propongono delle mediazioni, quindi quali sono delle forme di frontiere che attraversano e come queste frontiere le rimodellano, per esempio un'immagine può essere riutilizzata in un altro paese, quindi evidentemente essere ridocumentarizzata con un'altra lingua, la frontiera può essere anche una frontiera tecnica, il fatto che un'immagine sia inizialmente analogica per esempio, poi passa la frontiera digitale, quindi viene digitalizzata, quindi cambia formato in qualche modo, quindi c'è una forma di modellazione, viene rimodellata dalla tecnologia digitale, si vedrà diversamente dunque, ma anche ci saranno altri elementi che la segmentano in un certo modo appunto perché è stata digitalizzata, perché è stata scelta eccetera. Quindi l'obiettivo è quello di capire quello che un filosofo che lavora all'Università di Montreal, Marcello Vitali Rosati, chiama le logiche di autorità. Le logiche di autorità sarebbero gli elementi che fanno autorità nel fenomeno circolatorio, cioè chi è che ha l'autorità di decidere se un'immagine circola o no. Quali sono le logiche che consentono il passaggio e la circolazione delle immagini? Quali mediazioni quindi reggono la loro circolazione? Per esempio potremmo dire che l'autorità nella circolabilità di un'immagine del passato sia sostanzialmente legata agli autori televisivi nel mondo della televisione per esempio, no? Potremmo pensare che il giornalista, l'autore di un reportage di un servizio di telegiornale è l'autorità principale che decide delle immagini che verranno riutilizzate in quel telegiornale, no? Cosa ne pensate voi? Qual è l'autorità? Chi è che decide quale immagini vengono riutilizzate in un telegiornale? Quali sono le logiche di autorità che decidono perché certe immagini vengono riutilizzate piuttosto che altre immagini? Ci sarà sicuramente il giornalista, no? L'autore del servizio, poi ci sono altre logiche di autorità? Perché poi il fatto che queste immagini vengano utilizzate in un servizio di telegiornale significa che queste immagini circolano, quindi queste immagini piuttosto che altre e che poi queste stesse immagini potranno essere riprese dopo. Non di autorialità, eh? Di autorità. Ecco, eh, il, 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 quei criteri vengono adottati, no? Dalla, ehm, da chi ha il potere nel far circolare l'immagine, nel senso che uno può decidere che un'immagine è più o meno pertinente e quindi a seconda di questa pertinenza delle immagini, eh, utilizzerà un'immagine piuttosto che un'altra, effettivamente. Quindi ci sono dei criteri legati al contenuto del, del, che viene utilizzato, però c'è qualcuno, qualcuno o qualcosa anche, perché diciamo che l'idea è che forse avete, vi hanno parlato di Bruno Latour e quindi della teoria actor-nector, eh, e, boh, insomma, una delle cose fondamentali che si ritengono, eh, è come lui, eh, veda che ci siano degli attanti che sono umani e non umani, no? Non umano vuol dire, per esempio, che ci sono degli elementi tecnici, eh, che, eh, influiscono, eh, in, eh, influiscono nella strutturazione di un sistema. Allora, per esempio, no? Nel caso del fatto che certe immagini vengano utilizzate piuttosto che altre in un telegiornale, ci sono anche dei criteri legati alla disponibilità delle immagini, no? Eh, quindi, eh, l'autore è evidentemente il, il giornalista, eh, deciderà di utilizzare certe immagini, ma sulla base delle immagini che può utilizzare. Quindi ci sono delle condizioni di possibilità di quello che può fare che non vengono decise da lui, ma vengono decise altrove. Quindi vengono decise dal fatto, per esempio, che le immagini siano digitalizzate o no, quindi siano disponibili o non disponibili. Quindi già, se le immagini non sono facilmente disponibili, è molto probabile che non andrà a digitalizzare delle immagini non digitalizzate solo per utilizzarle in un servizio, anche perché sapete come funziona, eh, il, la fisiologia della produzione, eh, audiovisiva, dove le cose si fanno molto in fretta e si usano le cose che sono più facilmente disponibili. Eh, quindi utilizzerà le immagini che sono più facilmente disponibili. Quindi bisogna che queste immagini siano state documentate, documentarizzate, che siano state ben catalogate. Quindi se Raiteche non ha fatto bene il suo lavoro o se l'ha fatto in un certo modo, eh, beh, questo deciderà, eh, del modo in cui queste immagini verranno in seguito, eh, riutilizzate. E poi ci sono degli archivi che sono più o meno disponibili di altri. Eh, e, e, e dunque spesso quello che succede, per esempio, che la redazione di un telegiornale, eh, non va a utilizzare le immagini di Raiteche, quindi non va sul catalogo di Raiteche per trovare tutte le immagini già, eh, eh, digitalizzate e disponibili, ma costituisce i loro piccoli corpus di immagini, eh, e che vengono riutilizzate più frequentemente e quindi va a pescare sempre nello stesso piccolo corpus, che è quello più facile, di più facile reperibilità. Quindi le persone che costituiscono questo corpus hanno un'autorità molto importante sul tipo di immagini che vediamo, perché costituiscono la base, le condizioni di possibilità, eh, delle immagini che verranno riutilizzate poi dal giornalista. Per esempio, eh, Mediaset che collabora con il nostro progetto ci ha raccontato questa storia molto interessante, delle preziose. Eh, eh, ha la, la, la sede del TG5 a Roma, eh, questo collega che si chiama Andrea Scaranari, eh, eh, costituisce delle banca dati di, eh, preziose, quelle che lui chiama preziose. Le preziose sono degli stock shot, eh, sono delle immagini di repertorio pronte al riutilizzo e quindi per esempio tra queste immagini avete, non so, l'immagine del Polosseo, l'immagine di Palazzo Chigi, eh, o l'immagine anche, non so, della studentessa che sta facendo un esame. Eh, e quindi tutte queste immagini vengono catalogate, eh, aggiornate, perché magari l'immagine della studentessa che sta facendo un esame all'inizio, eh, lo faceva scritto, oggi magari lo fa sul computer, non lo so, quindi si tenta di utilizzare delle immagini, eh, che siano abbastanza aggiornate oggi, eh, e quindi questa, questi stock shot che vengono catalogati e strutturati da Andrea Scaranari, mi pare che parlava di ottocento, no? Scimino ti ricordi? I'm sorry, you can't understand English, you can't understand Italian, sorry. Parlava di ottocento, ehm, ottocento dossier, dossier, come si dice in italiano, cartelle, e in queste ottocento cartelle c'erano strutturate delle sottocartelle di, eh, immagini, eh, e quindi evidentemente in questo caso, eh, le preziose, anche lì, costituiscono una forma di autorità, perché decidono quali immagini verranno poi riutilizzate dal TG5 e dalle altri programmi, eh, di Mediaset per mostrare, per esempio, il Colosseo. Quindi, se vedete che c'è sempre la stessa immagine, eh, su Mediaset per mostrare il Colosseo, è perché è una delle preziose, no? Se poi un certo punto cambia, è perché le preziose sono state aggiornate, perché non so, per esempio, intorno al Colosseo oggi è pedonalizzato, avevano una preziosa dove non era pedonalizzato, per aggiornarla, eh, cambiano la preziosa, ma quindi è, è chi ha costituito le preziose che quindi decide che saranno utilizzate quelle immagini e non per forza è l'autore del servizio, eh, o del documentario. Quindi ci sono un'enorme quantità di mediazioni, che sono delle mediazioni tecniche, socioprofessionali, culturali, che sono molte complesse, che decidono, che strutturano quindi, eh, questo spazio del visibile. No, lo spazio del visibile è striato da, eh, queste categorie professionali, dal modo in cui anche si, eh, costituiscono i legami, eh, fra queste categorie, del modo in cui per esempio l'autore di un telegiornale, di un servizio, il giornalista per esempio, eh, si interfaccia con le preziose di Scaranari, mettiamo che c'è il giornalista che è un po' più autore, che vuole utilizzare le sue immagini e che quindi non pesca nelle preziose, ma pesca in altre immagini e quindi il fatto che il suo, eh, il modo di, in cui si interfaccia con un certo dipartimento di Mediaset, eh, costituirà la circolazione delle immagini in modo diverso. Ma quindi capite che c'è una forma di, eh, ridondanza che diventa evidentemente per una questione fisiologica del sistema, dell'ecosistema mediatico diventa sempre più importante, no? Eh, perché? Perché il fatto, eh, ovvero c'è le immagini che vengono più utilizzate saranno sempre più utilizzate. C'è una forma di, ehm, eh, di esponenzializzazione del riutilizzo di certe immagini. Eh, se guardate le immagini della seconda guerra mondiale, quando si mostra un bombardamento della seconda guerra mondiale, molto spesso si utilizzano sempre le stesse immagini. Eh, perché si utilizzano sempre quelle? Perché sono già state riutilizzate, no? E quindi si riutilizzano quelle che sono già state riutilizzate, che magari sono state scelte per certi criteri, eh, di, eh, spettacolarità o di, eh, buona rappresentabilità del disastro della seconda guerra mondiale, no? Eh, però, eh, il fatto che siano state riutilizzate aumenta la loro, eh, i criteri della loro, eh, possibile riutilizzazione. Quindi tutte queste logiche, insomma, sono delle logiche che per poterle capire effettivamente, eh, bisogna avere dei dati empirici, dei veri dati, no? Per vedere effettivamente come circolano queste immagini. E vedere come, per esempio, un'immagine del passato, un'immagine che rappresenta un evento, eh, viene utilizzata diversamente in diversi contesti, quindi, eh, ha una, eh, ha dei percorsi, segue dei percorsi e poi vedere come questi percorsi, eh, costituiscono dunque il riutilizzo e le, le strade del ricordo, permette allo stesso tempo di vedere dunque come il ricordo viene rimodellato e viene riutilizzato in modo diverso nel tempo e in diversi contesti. Per esempio, recentemente, eh, degli studenti della, eh, dell'INA, dell'Anstituto Nazionale dell'Audiovisuale, a cui ho dato un lavoro simile a quello, eh, a quello che, eh, darò a voi, eh, quindi quello di cercare, appunto, delle immagini simboliche, delle immagini del passato in un dato perimetro e vedere come sono riutilizzate, a partire quindi da una, la costituzione di un piccolo corpus, eh, di riutilizzazione di una stessa immagine, eh, vedevano come avevano lavorato sulle immagini del discorso di Simone Veil, eh, il, al Parlamento in Francia. Simone Veil era, eh, famosa femminista francese, eh, e che ha contribuito alla legge, eh, che ha legalizzato l'aborto in Francia negli anni 70, nel 76, credo, non sono scuro. Comunque il suo discorso in Parlamento è più o meno, eh, di quella data, del 76, eh, e è un'immagine che in Francia è, eh, si vede abitualmente, cioè utilizzata in continuazione, è in continuazione sui social network, è utilizzata, eh, alla televisione, eh, e quindi è una di quelle immagini simboliche che rappresentano, eh, la questione del, dell'aborto, eh, che vengono anche riutilizzate dai gruppi anti-abortisti, eh, e quindi dal, dalle reazioni, insomma, ehm, dai gruppi reazionari, eh, che, che sono venuti fuori oggi, eh, e, eh, e la cosa interessante è, per esempio, che loro avevano osservato che si pensava che questa immagine fosse sempre circolata, no? Fosse sempre stata utilizzata dal 76 fino ad oggi, e invece no, hanno scoperto che inizia ad essere riutilizzata a partire dal 2010, prima non era assolutamente utilizzata, e, eh, quindi già questo dà una, eh, una prospettiva, cioè apre delle, eh, questioni di ricerca, no? Quindi questo è un dato empirico, eh, che ci dice, questa immagine, che data del 76, dal 76 fino al 2010 non era mai stata utilizzata, improvvisamente riappare e viene utilizzata in continuazione, in maniera sempre più frequente. Quindi quali sono i motivi per cui viene utilizzata? C'era un anniversario, può essere che ci fosse un anniversario, no? Eh, c'è stato in 50, 30 anni, 40 anni, non mi ricordo più, eh, della, eh, della legge, eh, sull'aborto in Francia, oppure, c'è, il, Simone Veil è stata consacrata, eh, eh, al, nel, al Pantheon, al Pantheon, sapete, a Parigi, eh, ci sono i, le più grandi figure letterarie, vengono, eh, il luogo in cui vengono consacrate, Simone Veil è stata consacrata al Pantheon, quindi si è parlato molto di Simone Veil, qualcuno ha ripescato questa, eh, questo archivio audiovisivo, forse l'INA, appunto, l'assistituto nazionale dell'audiovisuale per poterlo, eh, eh, per poter parlare di Simone Veil, eh, al tempo stesso c'erano le manifestazioni di, in Francia di quella che si chiamava la famille Portus, erano delle manifestazioni, eh, cattoliche, eh, contro l'aborto, eh, e che difendevano una certa idea di, eh, società e che criticavano, appunto, la legge di, eh, Simone Veil, quindi forse è legato anche a questo, insomma, ci sono una grande quantità di elementi che quindi, eh, possono essere ricercati poi a partire da un dato empirico che si studia attraverso, appunto, l'analisi dei dati e di elementi, quindi, che possono, eh, apparire che sono, eh, eh, sono nuovi, no? Quindi ci sono delle, eh, degli elementi che vengono dati, appunto, dalla, eh, dalla data collection. E, eh, quindi nel caso di, eh, di Crobora noi abbiamo preso un, eh, contesto specifico che è quello della, eh, costruzione europea, eh, cioè l'obiettivo era di tentare di capire come si, eh, costituisce una memoria visiva dell'Unione Europea, dell'Europa sui media, cioè quando si parla della costruzione dell'Unione Europea, quale immagini quindi vengono utilizzate e quindi quale immagini circolano per parlare, eh, di quale immagini del passato circolano per parlare di Europa e quindi abbiamo preso questo, eh, terreno, eh, che, eh, sono quindi il web e la televisione, la Francia, l'Italia e quindi certi canali in Francia e in Italia, che in pratica abbiamo preso tre canali in Francia e tre canali in Italia, Rai 1, Rai 2 e canale 5 e poi il web francese, il web italiano, eh, abbiamo parlato del deposito legale, in Francia esiste il deposito legale del web, eh, che però insomma esiste da non molto perché l'hanno istituito nel 2009, poi inizia a funzionare realmente a partire dal 2015, quindi non è molto, non possiamo risalire molto indietro col tempo, eh, in Italia purtroppo non esiste il web vivente, il web attuale, oppure, ehm, l'altra volta forse non avevo avuto il tempo di parlare degli, eh, della patrimonializzazione del web, ma esiste questa fondazione che si chiama Internet Archive, è una fondazione privata americana che ha sede in California e che archivia il web mondiale, eh, e, eh, si trova al sito Internet Archive, eh, punto org, eh, eh, e, vabbè, insomma, la, la, l'archiviazione del web è qualcosa di molto complesso, insomma, non ne parleremo qui, però, eh, diciamo che attraverso Internet Archive si può risalire a degli usi, eh, sul web anche italiano precedenti, insomma, al web attuale, al web vivente, e poi prendendo anche degli account, eh, della comunicazione ufficiale, insomma, delle istituzioni europee, eh, quindi vedete, per, eh, lavorare sulla, eh, circolazione delle immagini fondamentalmente ci vuole un terreno di ricerca, no? Ci vuole una, eh, un focus specifico su un soggetto, o nel nostro caso, il focus specifico è la costruzione dell'Unione Europea, cioè quali sono le immagini che circolano, eh, quando si parla di, eh, Unione Europea e in particolare quali sono le immagini del, eh, passato. Eh, ecco, vi dare giusto una, eh, eh, quindi una piccola, eh, che magari può servire per quelli che vogliono continuare in dottorato, vogliono fare dei progetti di ricerca, eccetera. Eh, quando si fa uno stato, fondamentalmente lo stato dell'arte è tutta retorica, eh, siamo d'accordo, cioè, bisogna mettere in forma le cose per poter dire che quello che state facendo permette di, eh, avanzare. Eh, poi bisogna anche crederci a un certo punto, eh, ma diciamo che, eh, ci sono degli, eh, nello studio dei media, eh, una cosa che, eh, viene, eh, che viene analizzata appunto da Warburg è il fenomeno circolatorio e che quindi è una questione dinamica dell'immagine e quindi si studia il percorso dell'immagine, non solo l'immagine ma anche il suo percorso e si studia come il percorso delle immagini, cioè i diversi contesti in cui essa è riutilizzata definiscono o contribuiscono a definire il senso dell'immagine. Eh, e allora vedete che, eh, per voi che avete fatto bene semiotica sapete che la semiotica era legata nella, soprattutto nella sua prospettiva strutturalista e generativa alla questione dell'immanenza, no? La questione dell'immanenza significa che noi studiamo, per esempio, l'immagine indipendentemente dai suoi contesti d'uso, per esempio, no? Eh, indipendentemente da chi la prodotta, indipendentemente da chi la sta guardando. La, le famose tre intensio di, eh, Umberto Eco, no? L'intenzione del lettore, l'intenzione dell'autore, l'intenzione dell'opera. E Umberto Eco dice, eh, noi ci occupiamo dell'intenzione dell'opera, perché l'opera evidentemente può dire delle cose che l'autore non aveva neanche pensato, eh, o che sono indipendenti dal, eh, modo in cui il lettore e dalle riferimenti culturali che il lettore utilizzerà per capire l'opera. Quindi una, una forma di manenza è necessaria per, eh, per studiare il testo, eh, perché dobbiamo astrarci, quindi, da, il, eh, dal lettore e dall'autore. Ora, questa prospettiva che poi Umberto Eco, insomma, eh, tenta di storicizzare in qualche modo, no? Gli studi di Umberto Eco, sono sempre, aggiungono una componente storica fondamentalmente alla, eh, eh, alla, eh, all'analisi semiotica strutturalista, eh, però diciamo che questa, eh, questione dell'immanenza viene un po', eh, rivista soprattutto, eh, nell'ambito dell'audiovisivo in quella che in Francia chiamano la semiopragmatica, eh, eh, che è portata avanti soprattutto da due autori che sono Roger Audin e François Jost, che forse avete, di cui forse avete sentito parlare, e la semiopragmatica tenta di legare, diciamo, lo studio, eh, del, del testo o dell'opera, eh, con, eh, le, eh, questioni legate, eh, a, eh, i loro, eh, ai loro usi, i contesti in cui, eh, le opere vengono, eh, diffuse, per esempio, si lavora, per esempio, sui canali che ridiffondono, eh, i programmi, eh, si lavora soprattutto sui generi, no? Il genere, è qualcosa che evidentemente struttura il nostro modo di, eh, interpretare qualcosa, non possiamo disfarci, non possiamo fare a meno, eh, del, del genere, eh, per lavorare sull'interpretazione di qualcosa. E poi arrivano, eh, le, eh, scienze sociali, c'è quello che negli anni duemila è stato chiamato il social turn, no? La svolta sociale, eh, e in particolare Henry Jenkins, che sicuramente tutti conoscete, no? No? No, sì, Henry Jenkins parla di, eh, la cultura della convergenza. Avete parlato della cultura della convergenza, no? Sì. Eh, boh, la cultura, eh, è un sociologo e fa, eh, quella che si chiama la sociologia degli usi, cioè vede come certi contenuti mediatici vengono utilizzati. E quindi vede come fondamentalmente, è fondamentalmente una, è una sorta di messa in pratica delle idee di Michel Desertoux. Per quelli che l'hanno studiato nell'invenzione del quotidiano la questione del bracconaggio, la riappropriazione, no? Come ci si riappropria di certi contenuti e quindi si va a vedere cosa fa la gente, cioè come la gente si riappropria di certi contenuti. E quindi quello che è evidente è che nel mondo dei media digitali cosa succede? Eh, ci sono delle forme di riappropriazione da parte degli utenti, nel senso che gli utenti riutilizzano per esempio degli archivi audiovisivi, per esempio delle immagini e le reimmettono nel ecosistema mediatico, eh, reinterpretandole, facendone degli usi diversi, eh, e quindi ristrutturando insomma, eh, il, nel nostro caso, eh, ristrutturando quindi, eh, queste vie, eh, della, eh, della circolazione. E contemporaneamente nel, nel mondo degli studi dei media studies, eh, e quindi degli studi del digitale, c'è quel famoso concetto di rimediazione, che questo se l'avete visto, sì, quello di Bolter e Gosin, no? E quindi la rappresentazione di un medium attraverso un altro medium, eccetera, eccetera, e, e, e anche lì, no? C'è uno studio quindi del modo in cui, eh, il medium, il fatto che un medium rappresenti un altro medium, eh, e quindi del modo in cui, eh, il, il supporto mediatico va a definire, eh, e quindi a, contribuisce a strutturare anch'esso il, eh, eh, il contesto in cui circolano le immagini. E quindi vedete come ci si è allontana, in un certo modo, dalla questione dell'immanenza nei media studies, eh, grazie all'osservazione di quello che la gente fa con le immagini, per esempio, eh, di quello che i media fanno ai media precedenti, che quindi permette di rivedere come le immagini sono riutilizzate in altri media, e quindi ci si avvicina, insomma, allo studio della questione circolatoria. Se poi aggiungete il fatto che viene ripreso a Bivarburg, eh, e quindi a Bivarburg viene ripreso nella storia dell'arte, ma successivamente viene ripreso sempre più frequentemente anche nel, eh, dominio dei media studies, si comincia quindi ad osservare, eh, l'immagine, se noi prendiamo l'immagine non più nel, eh, nel, eh, da un punto di vista immanente, quindi l'immagine in sé, non più neanche solamente nel contesto in cui viene interpretata, nel contesto in cui viene prodotta, nel contesto in cui viene riutilizzata, ma si comincia ad osservare la questione dinamica, cioè come l'immagine si sposta, come circola e come questa circolazione, quindi dal punto di vista semiotico interessante, come questa circolazione contribuisce a definire l'immagine e il senso che gli si può dare. E allora l'idea del progetto Crobora è anche, eh, il fatto che quindi se noi osserviamo la, eh, circolazione, quindi una, eh, questione dinamica e non più statica, se osserviamo quindi i contesti dell'immagine, se osserviamo i percorsi dell'immagine, il modo in cui questi percorsi definiscono il senso, ehm, quello che bisogna studiare è come il fatto di avere, eh, delle ridondanze, quindi tante immagini, ovvero la frequenza delle immagini definisce in qualche modo il loro senso. Cioè per esempio il fatto che le immagini dell'11 settembre, il motivo per cui le immagini dell'11 settembre noi le conosciamo tutti, non è solo perché le abbiamo viste una volta in un dato contesto o che sono state riappropriate da un dato utente e quindi le abbiamo riviste, ma il fatto che le abbiamo viste tante volte e tutte queste volte in cui vengono recepite, no, la questione della ricezione è che l'insieme di queste ricezione struttura e definisce il ricordo visivo dell'11 settembre e il ricordo visivo dell'11 settembre cambia a seconda di come vengono rimodellati questi contesti che ce le ripropongono e quindi in qualche modo il ricordo visivo viene determinato dalla circolazione e dalla ripetizione, quindi non solo un'immagine, non solo un contesto dell'immagine, non solo l'autore dell'immagine, non solo i riusi dell'immagine, ma l'insieme dei percorsi che le immagini fanno attraverso insomma i diversi contesti in cui vengono e ambienti in cui vengono riutilizzate. So se è chiaro. Ecco e dunque vabbè lascio perdere questo ma fondamentalmente per poter rispondere dunque a questa questione l'idea è che bisogna avere dei dati per capirlo, quindi collezionare degli insieme di immagini e le loro circolazioni, i loro percorsi e analizzare questi percorsi e diciamo che c'è una questione legata alle digital humanities oggi, una questione primaria è il fatto che i fenomeni mediatici e digitali sono dei fenomeni di massa e quindi per poterli analizzare evidentemente abbiamo bisogno di dei metodi statistici perché non potremmo prendere in conto tutte per esempio le occorrenze delle immagini dell'immagine dell'11 settembre se non avessimo dei metodi digitali che ci permettono di raccogliere questi elementi e allo stesso tempo non potremmo guardare tutti i contesti in cui le immagini dell'11 settembre sono stati utilizzati perché se ne abbiamo 50 magari ancora un manamento è fattibile, quello che farete voi, avete dei piccoli corpus, poi ne parliamo e quindi quello è fattibile, vedi insomma una decina di casi, una ventina di casi quindi lo puoi analizzare diciamo qualitativamente però quando ne hai centinaia o migliaia allora bisogna avvalersi dell'uso di uno strumento che ci aiuti e questo strumento che ci aiuti quindi guarderà le immagini al nostro posto e forse Schimming ne parlerà dopo farà quindi del distant viewing cioè non si guardano le immagini ma si utilizza una macchina che le guarda per noi è quello che è un po' l'iniziatore delle digital humanities Franco Moretti chiamava distant reading la lettura a distanza e lui diceva per leggere tutte le opere prodotte nel 700 nella letteratura per esempio italiana bene io posso fare come ha sempre fatto uno storico della letteratura e quindi prendere i capolavori quelli che sono stati selezionati oppure posso tentare di andare a guardare tutte le opere che sono uscite quindi per fare una sorta di svolta e rimettere in questione la questione dell'autorità di chi fa passare certi autori piuttosto che altri solo che non posso leggerle tutte e quindi cosa faccio uso dei metodi statistici e uso una macchina che le legga per me e quindi faccio del distant reading cioè quello che leggerà le immagini al mio posto è la macchina e attraverso la lettura della macchina faccio emergere degli elementi che sono degli elementi che poi dovrò interpretare appunto semioticamente sono degli elementi che non avrei potuto far emergere attraverso uno studio umano o manuale e quindi Shining Shen is PhD candidate at the Universite Cote d'Azur e she works in the project Crowbora and so she will make a methodological introduction to what we can call so what we have called a distant viewing so the fact of having digital methods in order to analyze the big corpus the corpora of visual data ok today I wanted to share with you what we have got until this day some results intermediate results about Cobra project and also I'd like to share with you some other interesting projects which are totally disconnected from our project but they also use some computer vision techniques or statistical textual analysis on corpora of images so I think maybe that's interesting for you to know a little bit about it all right so the program is firstly I will talk about our project of course and then more specifically I wanted to concentrate on the the practices that we've conducted by combining computer vision and techniques with metadata created by human that that is to say by our project members and then also there's a very interesting project who has studied BLM movement which is Black Lives Matter movement they've studied how the event is constructed on social media they've studied their images so it's also very interesting to talk about it then yeah and they've primarily used computer vision on these kind of images and the third one if we have time maybe we can also talk about a little about about getting images leaning collection so this is a collection of images about women in getting images and there are a group of researchers they have done some textual analysis on the metadata that is on the text accompanying those images to draw out some conclusions draw some findings so that would be also interesting and the the last one if we have time maybe we can talk about some problems in computer vision and I will explain why just computer vision isn't sufficient for analyzing opera of images maybe we should also combine with metadata produced by the humans all right so let's begin so firstly I'm going to talk about there are many questions that can be asked from our corpus because we already constructed a corpus database and there is one question we're especially interested in that is how to bring out symbolic images from the corpus that is to say how to extract the audio visual sequences with specific symbolic value from the corpus that we've constructed I will explain to you why we are especially interested in this topic so I think Mathieu he has already explained a little bit before about our corpus so this case study is based on the data collected from the TV evening news on three French national channels TF1, 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 France 2, and FD of the period from 2001 to 2021 until now there are 1,942 reports collected in which we found 9,133 stock shots and the collection is not over so we're still continuing however during our collection we've already had an impression that there might be two different approaches to deal with the data the first one is related to what we call a statistic paradigm in which we focus on what is common between a number of objects like here we can find some images which have some common points in them and then we do some cluster this is what we call a statistic paradigm this is what we call a statistic paradigm this is also what we call a distant viewing they use this kind of approach and we do not include what occurs infrequently at the same time there seems to exist another paradigm in which we pay special attention to infrequency and rare phenomenon in this presentation I plan to talk about the second approach that focuses on the uniqueness of the limited number of data in our corpus because as you know there are like 10,000 data in our corpus so how do you choose the one that you're interested in that's a question so I'm going to talk about a little bit how to do close reading based on a large data set and how do you use computer revision to drag out the images of the data that you're interested in so the reason for which we feel a need to study these infrequencies is that there seems to exist several types of stock shots with different characteristics and the ways in which journalists use them are also different among these sequences there is a small part of images which seem unique in terms of their circulation duration that is to say they've been on the media for quite a long time in comparison with the other stock shots as well as their circulation space that is to say they've traveled through France through Italy and maybe to other countries you see those images in France in Italy maybe also in Luxembourg in their media and most importantly some of them seem to come from the same video source so I will explain to you what are those images and I think that's the same thing we've encountered for the data set of Chai because the images that the journalists use are basically the same can belong to the same typology like for example the famous signature of the Treaty of Rome the treaty that basically found the European Union this sequence has been perceived to have traveled through the 20 years that we've observed and it seems that it always has been the extracts from a unique audio visual source that is we always see this sequence when we collect the data and he has been there for 20 years the amount of this type of stock footage is quite weak in the whole corpus therefore we ask ourselves is there a way to find out all these significant but elusive moments existing in our corpus they've left some traces everywhere but it's hard to catch them all because we see them but we don't know exactly where they are during our data collection so in this case we believe it's necessary to investigate our data and try to propose a typology first of stock shots in TV news as the first step and I think this typology also works for the data at Chai in general there are three types of stock footage that is to say the images that are reused over and over again by media that exist in TV news we call them firstly illustrative stock shots, recent shots, and historical shots during data collection it has already been noted that illustrative shots represent an absolute majority over two other types illustrative images are everywhere in our corpus we can further distinguish two types of forms under the category of illustrative shots which could be called as generic illustrations and European illustrations for the first one it is about the images that are not exclusively reserved for the representations of the EU these are images that are closely related to a specific theme I will give you an example so the first type if we take the pandemic in Europe as an example within our data we can find images like this of vaccine production in the factory of a pharmaceutical company on the other hand one could probably find highly similar images in an Italian or in an American or in a Chinese news report so here what counts is no longer the EU but rather a specific theme so you can find this kind of generic illustration such shots everywhere globally but however there is a second type which is closely linked to the EU these are visual forms considered as EU symbols by journalists in our corpus the most frequently used are the European flag all the flags of EU member states the headquarters of the European institutions the homicycle of the European Parliament and the Euro and I think based on what our internship of CHI has observed they have said the same thing this is basically the same for Italian news they also observed the same forms in the Italian news so for both two subcategories the generic and European illustration stock shots the recycling of illustrative images should be interpreted as a redundancy of form rather than as a phenomenon that affects a specific sequence that is to say it is not the images themselves it is not a specific sequence that are recycled but the visual types they convey so we can see a million images which are highly similar they both show European flags but they are not from the same video source as for the second type of stock footage we could call them recent shots so this is the second one these are images about something that occurred recently an event usually less than one year till the present time journalists tend to use these shots on account of their close relationship with the latest event here's an example so right after the November 2015 Paris attacks we got this piece of news on the channel of France 2 here the sequences about terrorist attacks are followed by certain recent images on migrants heading towards Europe and then Marine Lubin and Nigel Farage in meeting with their supporters in the next sequences so in this news the actual event is about the attacks in Paris while some archives are also used to mention two other media events which were considered by the journalists closely connected with the latest event which is the attack so in this way they've framed the news report like they've put some events they think they're connected in the same report so stock shots like in this case the influx of migrants and the actions of political personalities are what we call recent stock footage the second one and lastly the third type is about historical shots the amount of this type of sequence is much lower compared to the illustrative and the recent ones they can also be called as testimonial images those that keep traces of what once took place so historical shots are often endowed with certain visual effects to indicate to audiences the old age of these sequences like such as black and white effects or poor picture quality or the presence of someone who already died who already passed away but he showed in an image and that way we know that it's a historical image for example oops so the footage of an explosion during the Second World War this type of image is often used as a reminder of the facts it's the same function as the sequence about the Treaty of Rome they're both historical images but they're very the number of them are very small in our corpus so how could we possibly find out the so-called symbolic images from these stock shots is symbolic image more related to one of these three kinds or not if we think of a symbolic image as conventional for which there exists a relatively stable reference function between this image and EU narrative in our case the reference function depends on what is said by journalists when he or she uses one stock shot therefore we could see that the focus is actually on the usage of images rather than on their actual visual content so the typology of stock shots mentioned above so these three types isn't sufficient to help us with the identification of the sequences with symbolic value so in other words we can't tell if a stock shot is symbolic or not just based on if it's historical, illustrative or recent or any other kind of visual features in itself more than that we should pay attention to the usage of one stock shot so for example here the sequence on the flag raising ceremony in front of the European Parliament in Strasbourg during the entry of new countries into the EU in 2004 is found to be reused 44 times in our corpus it seems to us a shot highly symbolic since there is a strong metaphorical nature in itself there is a metaphor the uprising of flags means the entry of the new countries and most importantly a high frequency of usage over time on the other hand we got the lowering of Union Jack during Brexit we can see that the representative style of the second one is highly similar to the first one there's also a metaphor so except that it's in opposite direction however the second stock shot was found in our corpus only 4 times so can we see that this is also a sequence with symbolic value in this case we may not because there is a very rare lack of frequency of its usage in your narrative thus we wanted to point out that the intrinsic content of one stock shot doesn't determine its symbolic status theoretically all the three types of stock footage illustrated recent and historical stand a chance to be rendered symbolic by the media only if they can make it into media's choice in certain condition now our question turns into apart from the initial characteristics of image is there another way to cluster that means to group our images are visual data according to their reference function that means according to what according to how they are used by media so one of the solution could be the application of computational tool PixPlot plus an interpretive indexing by human beings so I will introduce you PixPlot that you will also use later I think in June for the first part for the interpretation part we use the new metadata created by our group members so this kind of metadata also exists for the data in Hai so here we've created for each stock shot found in TV news four columns to describe them in our own way so we choose to describe every shot according to four dimensions personality I don't know if you can see it but personality in purple and event in blue and then place where it happens and then illustration so illustration is what basically what we see directly on the image then we note the figures or the persons that we see in this column so if the three other dimensions are more related to the iconic features that is what we or the original content of the sequence where we directly transferred visual elements on image into words the second column the event dimension refers rather to the usage of the sequence that is to say when the stock shot is being used which event or theme is being mentioned in the journalist discourse now this dimension has become an important indicator for us to identify the reference function of one stock shot so according to the initial indexing of events we've also conducted some sort of harmonization work for example we've classified Spanish financial crisis as well as the financial crisis in Portugal and Cyprus into the same group European debt crisis so our first job is to identify those sub-events which could possibly be classified into a bigger event into a series of events those bigger events often refer to a serious events like European debt crisis or enlargement of the EU in this way before applying computer vision technique pigspot we've already had some aggregation work done according to the media events that the stock shots are attributed by journalists so here is how it looks of pigspot so basically this is the software that would categorize or cluster your images automatically according to their plastic features that means according to their colors to the forms to how it seems like of the scenes so basically it's more of plastic so once the first qualitative aggregation work is done then what we did is we add an interpretive layer to raw pixels so first of all to prove this point here here is an example of without an extra interpretive layer applied to the corpus in fact we've also tried in the first place to put all of our French data in one session to see what it gives us and we let the algorithm do its work purely automatically it turns out that certain larger trends could effectively be detected like there's clusters of all the European flags as you can see or meetings of European leaders or some documents of European treaties identities and these are some meetings of the European leaders here so he's capable of group images according to their visual elements but however there is a problem that is we've missed out all the contextual differences and certain uniqueness could be hidden behind these big trends I will give you an example for instance pigspot has classified this portrait of Angela Merkel with that of two farmers in the same cluster on account of their similarities in terms of visual structure however if we listen to what is said by journalists when using these two sequences in news report the first one is to show the economic situation of Eastern Europe during the enlargement of the EU and the latter one of Angela Merkel is to show Merkel's action during the European debt crisis which are about two totally different events but they classify them together because they look similar so you see the contextual differences it's not considered by computer but this is important for us because we wanted to know what kind of events is constructed so therefore to remedy this kind of information loss due to computer vision we believe that an added interpretive layer is actually needed before computational calculation so what we do is we put the images used for the same event into a separate session and try to detect the ones with the same visual features on the basis of the clusters automatically produced for example we put all the images indexed by our group members with enlargement of the EU in the same pool and here we pay special attention to those isolated hotspots or the content islands as called by Lefmanlage so because these images are likely to possess some unique features that make them different from others but at the same time they have been circulating on media for so many times that a hotspot is formed so we think that these images could be highly relevant to the symbolic images that we're looking for so a closer check is needed after the selection of hotspots here are the four hotspots the isolated ones that we've chosen as you can see there are indeed some interesting findings not only do we have the flag raising ceremony that we've mentioned earlier but also a child a child there between the other two a child in the street in black and white and here we've got some scenes some scenes of meetings but apparently the third one the third calling there are some meetings but apparently some shots are highly similar so the next step is to download a JSON file containing the metadata of all these images that we've chosen so we can trace all the back to the original audio visual data to double check if these highly similar images they are really from the same video source so by applying this approach to other events we could possibly establish an atlas which assembles all the EU significant moments in our corpus so this is some examples of what we've managed to find based on the calculation and our metadata so this is the first example of what we did was pick spot for Cobra and I think you will also be using this software like in June if I'm not wrong so what time do we got so another example which has nothing to do with Cobra but it's interesting so this is a project conducted by a group of researchers on the event construction on Black Lives Matter movement I think you know better this event maybe better than me but the context is not long after May 25, 2020 and the insurgent Black Lives Matter protest against police brutality and racism in America politicians as well as grassroots population globally chipped in on social media often tapping into training hashtags in virtual ways especially the hashtag BlackoutTuesday that was accompanied by black squares so for example they've posted this kind of image and then they tapped into the hashtag BlackoutTuesday so this group of researchers they decided to focus on the event construction of this event they asked the question what are the images shared in this issue space so they've chosen Instagram Facebook and Twitter of the BLM movement so you see there's a huge difference is that they don't work on the archives they work actually on the social media and then they've chosen to several data sets on Twitter they've chosen George Floyd hashtag Instagram BlackoutTuesday George Floyd All Lives Matter and Black Lives Matter and Facebook Blue Lives Matter so you see they've chosen these hashtags on the one hand it's because they're popular on the other hand because there are two All Lives Matter and Blue Lives Matter they're against the BLM movement so here researchers undertaking visual research in the realm of social media are methodologically challenged more than us because they often haven't to tackle issues of selection due to the sheer amount and unstable stream of images uploaded to social platforms every day like there are billions of images uploaded to social media every day so what you choose is a problem firstly they use the meme specter this is a tool to label images so meme specter is a tool also computer vision but it can automatically give each image a label to summarize what is in the image and then they will generate a networked file in which images are organized by their annotated content labels so here this tool he changed the image analysis into textual analysis because what you've got to do is to look at the text so although this meme specter is highly problematic I will explain to you later why there's something wrong with this software but to use it as a standalone method for analysis of social media images but it's interesting to look at so then the researchers they went on to look at the images that were shared they ran them through meme specter and looked at the text that were applied to the images for example there appeared to be a big difference between the images that were shared by the U.S. House and by the EU Parliament above you can see that the U.S. House images focus mainly on the specific case of George Floyd like you can see they're years old or George Floyd was three and this is about the event itself and then the EU Parliament side is more generic you can see it's more related to the big context of black lines or black so here the researchers they're saying that they find the EU Parliament focused more on the movement as a whole while the U.S. House focused more on the case of George Floyd then they used some another software image sorter which is highly similar to what we've used PixPlot so it also it's capable of clustering images based on their color characteristics visual ones so if the president one the meme specter organizes essentially images by similar content and not so much by their formal modalities based on their plastic features this one this software image sorter like PixPlot it organizes mainly by color on an image so especially evident from processing the images image sorter was the historical visual connections that users made to past expressions of racism and oppression moreover we could see a lot of motivational text based images and user generated content images then they worked on the same software but with another hashtag blackout Tuesday so the the vast proportion of the Blackout Tuesday network features photos of people typically headshots potentially selfies of black people looking fabulous further research into the text associated with these posts would help us better understand these images but now they've just analyzed automatically all those images so you see the researchers made some hypothesis that there is potential that the the selfies that posted by black folks are indicating pride and self-love in resistance to mainstream media representations and political framing of BLM as well as how black squares make black bodies invisible and there is also potential that some posts are promoting businesses they are doing branding images of products particularly clothing items are also very prevalent in the data set potentially associated with the promotion of businesses as part of the Blackout Tuesday campaign so finally the platform vernaculars may be at play selfies and polished forms of self-representation are part and parcel of Instagram as a platform so on Instagram basically there are more selfies than Twitter and Facebook which is obvious and in all of those campaigns you can maybe see many branding stuff mixed in it then they went to they went into the hashtag all lives matter so by using image sorter which gave them some surprising findings this seemed to be a space where a surprising amount of content was pro-Black Lives Matter because basically all lives matter is against Black Lives Matter but what they found is that actually it's not like that it's largely pro-the movement so interestingly what they found is that there were quite some image clusters of hijacking hashtags and targeted clogging of the feed with non-related content that is to say you can see these images or memes were all posted within the same short time frame with no user name or full name associated and featured random images of memes K-pop stars the Joker etc. so it looks like there are some kind of actions to pollute the content on social media of this movement by design so the last sub-project focused on image button dynamics and visual vernaculars this is what they call sentimental analysis here they demarketed the data of a Blue Lives Matter query through Facebook CrowdTango so this is another software he cluster the images based on crowd that is to say basically they do the same thing as they cluster the images based on visual force but then it will attribute some labels textual to this crowd to give you an interpretation of this image so so here in this case they focused on most loved most sad and most angry based on the bottom the users have tapped interestingly analysis of the reactions show that the images connected to sad and angry largely correlated while the images connected to love were more related to like this links to findings in earlier DMI based work that found that two bottoms strongly co-occur signifying more ambiguous emotions at play when displaying solidarity the sad bottom is least used in Blue Lives Matter that this explains that folks are way more angry in this hashtag and in angry we see quite surprisingly the back the blue demonstration and the injustice so in both the love and sad spaces we see an interesting great occurrence in both highly engaged as well as frequently used images but more close reading is needed to do some analysis more profound to so this is basically what they do for event construction of Black Lives Matter so here we can draw some conclusions some observations that is starting networked images and their metadata garnered through platform specific features means working with messy data because these data are incomplete and unstable dynamic metadata such as retweet metrics they are unstable objects of research the images that are constantly recontextualized as they travel within and across platforms so they have more challenges in terms of data than that because what we have is structured data which are stocked in archival deposit but if you study social media the data the data is more like a mess so it's you who should select and then this project addresses challenges posed to researchers undertaking visual research in the realm of social media so one of which being the issue of selection social media enables access to billions of images that are difficult to classify for qualitative researchers the identification selection and organization of visual materials always involves negotiating complex issues of sample representation authenticity and exhaustiveness so selection is always a problem and then the researchers took three in this case the researchers took three main softwares for organizing images to study social media they propose that the main way forward is to integrate these methodologies further in order to know the direct responses to political messages so one has to go into the comment sphere they haven't done the comment one to investigate more on this event the ambition of this group of researchers is to start working more with images with sentimental analysis so not merely reactions bottoms but in text images could also be analyzed in the future for them as textual analysis so we don't have so much time but okay I'll be quick yeah yeah don't hesitate if you have questions alright I'm going to continue so the second case study is about a critical genealogy of the guided images leaning collection which is conducted by an Italian researcher I don't know what is the name in Italian Georgia okay so she's a professor in Leeds University what they've done is the context is in early 2014 the biggest leading stock image databank in terms of global market share getting images launched a new photo collection called Leaning so they started the collection to shift perceptions overturned cliches and incorporate authentic images of women into media and advertising so the Leaning collection was created in collaboration with Facebook so they've provided 7,000 images to show some to show images of women and girls and families that devoted to the powerful depiction of women so this image banks like getting images that still ready to use stock photography online have become the visual backbone of advertising branding publishing and journalism also data exposure to stock images has increased exponentially with the rise of social networking and the generic visuals used in lifestyle articles and other social media so it's interesting to study in those kind of stock images so this group of researchers they come up with a question so two questions how do these images exist and move across different online platforms and media outlets the second one is about the representation so how does the Leaning collection of women communicate women as empowered and authentic both virtually and through the language found in titles and keywords this is their datasets and what they use so basically they've used Google reverse image scrapper so they've like they import one image into this software and then it will retrieve all the occurrences of this same image on other social media accounts on websites or magazines so that's how they got their dataset constructed so the first one their findings about circulation how do these images exist and move across different online platforms and media outlets so the Guaddi images originating from the Leaning collection are circulating on the internet as Guaddi Images sells the ready-to-use stock photographs online they found that the photograph's rights are either managed or royalty free which is not surprising we can imagine that and then for most media outlets over 50 of the photos are right managed the photos within the image bank itself are mostly royalty free as seen on this image the photographs flew from the image bank to different sources such as blogs news websites social media etc the amount of use on social media platform is significantly high compared to other media outlets another significant finding is that the number of pictures scrapped is not equal to the unique number of unique images that is to say for example the amount of images traced back by the image scrapper for the website super stock which is somewhere there below and it gives a total of 103 images however the amount of unique image is merely 30 that is to say this indicates that most pictures are used several times another factor is the number of authors who have their pictures incorporated into the Ling Ling collection significant is that most pictures are linked to two authors Thomas Barwick and Harrell images in addition the most used keywords that refer to the photos within the Ling Ling collection are people adult date adults only and indoors I'm going to focus on the second one representation so how how are those images look like what they've done is they've done some textual analysis on the titles of those images so for the entire Ling Ling collection at Getty Images the title given to the photos were analyzed this image shows the top 10 most frequently used used words within this title this shows that words related to the female gender woman female girl business woman and work related office business woman working are the most frequent also the words young smiling and portraits stand out so these results indicate that a typical photo found within the collection may describe a portrait of a young smiling woman at work so image 2 shows the top 10 most used full titles found within the Ling Ling collection at Getty Images interestingly Shoreditch Office is the most popular title found Shoreditch is a trendy neighborhood in London representing a positive and successful entrepreneurial vibe so the top 3 used titles are all business related as you can see showing an emphasis on promoting women in the labor market in image 3 the top 5 most frequently used tags for describing the physical characteristics of the people portrait on the photos of the Caucasian ethnicity compared to the African ethnicity Caucasians are more than 5 times as frequently depicted another notable characteristic is the most frequently used age as shown in image ages between 20 and 34 years old are most dominant with a significant preference for ages between 25 to 29 concerning hair types long hair typically associated with women is the dominant hairstyle brown and blonde hair are the preferred hair colors with brown hair more frequent than blonde hair these findings show that the typical person depicted on the photo in the linen collection of guided images is a Caucasian with long brown hair aged between 24 to 29 so the photo on the side is the typical linen collection image so here you can see based on their texture analysis we can draw out a portrait of what it is the images in the collection so like women one person Caucasian ethnicity USA seating tag with clothing brown hair 25 to 29 years smiling business women and blonde hair so they conducted this textual analysis to describe the visual elements of the image okay I think we've got five minutes left so I think I'm going to skip this one because there is another part which is interesting all right yeah so here is an illustration they used some another software which is called JFE I don't know if you've heard about it it's so it created the tag network the tags used for the top ten most used images are connected in a network graph they used the metadata of images to create this so the size of the node indicates the amount of connections this shows that the business and working are the most frequently used tags for the top ten photos the nodes in the middle are the tags that are most shared between different clusters of topics the most connected of these are working and lesbian it is interesting that lesbian is one of these because only one of the ten photos depict a lesbian couple that means the lesbian image is rare but it's scattered over all the topics okay so I'm going to no I'm saying so the researcher the more centered it is that means it's more connected to all the other topics okay so it means it appears always with other ones but the researchers say the number of lesbians is very little it's just one in ten images which have the lesbian couples so that means the number is rare but uh can be it's a tag it's a tag it's metadata created by getting image yeah that means what what does it mean in 1990 yeah it's a couple of women so that means basically all of these topics like mother or business you can find this in couples but it's rare but it exists alright I'm going to skip the conclusion so the last part is about why do we have to use the metadata if we already had the computer vision why bother using human to create metadata why don't we just put all the images into the computer vision to do automatically so here there are a group of researchers they've done they've done research on the most significant training sets in the history of AI so far which is called ImageNet so this ImageNet is a data set of extraordinary scope and ambition in the words of its co-creator this image set aims to map out the entire world of objects it wants to describe all the objects in the world to conclude it into its data set so over several years of development ImageNet grew enormous the development team scrapped a collection of millions of images from the internet and it became the world's largest academic user of Amazon's Mechanical Turk using an army of piecemeal workers to sort an average of 50 images per minute into thousands of categories when it was finished when it was finished ImageNet consists of over 14 million labeled images organized into more than 20,000 categories for a decade it has become the biggest data set of object recognition for machine learning and a powerful important benchmark for the field so it's very famous in AI training as we go further into the depth of ImageNet's person categories they found some interesting findings the classification of humans within this data set take a sharp and dark turn there are categories for bad person there are categories for bad person call girl drug addict closet queen convict crazy failure flop hypocrite loser malachic non-person pervert primadona so these are you can see that they've categorized person in those bags which is called bad persons and there are many racist slurs and misogynistic terms for example another example images are we know that images are laden with potential meanings this question can't be resolved because there are many meanings and contradictions in the same image in trying to resolve this ambiguous image that's label often compress and simplify images into banalities so one photograph shows a dark-skinned toddler wearing tattered and dirty clothes and clutching a suit-stained dial this child's mouth is open the image is completely devoid of context and who is this child? 3-1 we wonder who is this child and where are they? but the photograph is simplified in this database labeled as toy some labels are just nonsensical a woman sleeps in an airplane seat her right arm protectively curled around her pregnant stomach the image is labeled snob a photoshopped picture shows a smiling barack obama wearing a nazi uniform his arm raised and holding a nazi flag it is labeled bolshevik at the image layer of the training set like everywhere else we find assumptions we find politics and points of views word views so what are the assumptions under grinding visual AI systems? first the underlying theoretical paradigm of the training sets assume that concepts whether quorn, gender, or emotions, or losers they can be categorized and these concepts are fixed, universal and have some sort of transcendental grounding and internal consistency so second it assumes a fixed and universal correspondences between images and concepts appearances and essence what's more it assumes uncomplicated self-evident and measurable ties between images, reference, and labels in other words it assumes that different concepts whether quorn or losers have some kind of essence that units each instance of them so they assume that we can categorize everything in their categorization and so here we can see there's some problem in the computer vision because when you want to use a computer vision you just there's always a training set of data so you have it's the human who constructed this data and they categorize all this data so if you use the computer vision that means you have to adapt your data into their categorization so conclusion maybe some observation is that yeah computer vision is found and powerful and especially if you want to research on social media there are billions of images you can't do it by humans so now it's inevitable to use them but there's there are some problems in it so if you if we want to use it we should make a good selection of good tools that adapt to your hypothesis that adapt to your data sets and then after the application some close reading will be needed it's you who's going to interpret the data and then metadata is important as what we've said the Ling Ling women collection they've analyzed the metadata other than the images which could also show some interesting findings and then maybe some new metadata like what we've done for we've done we've created metadata ourselves so that we don't fall into the categorization that is predefined by other producers of computer vision that's all thank you so that's the the question can you see can see